Tutto accade il giorno dell'ultima cena, la sera che lasciava a noi. Tutto accade il giorno dell'ultima cena, la sera che lasciava a noi. Quando lui pregò che il padre facesse tutti noi, come tra loro due. Quando disse voi amatevi l'un l'altro, come io ho amato voi. Quella sera lui parlava dell'amore, ma amare che vuol dire poi? Quella sera lui parlava dell'amore, ma amare che vuol dire poi? Senza dire una parola, si inginocchia a lavare i piedi degli apostoli. Ecco qui cos'è l'amore di Gesù, è servire gli altri, questo è. Quella sera con i suoi amici scherzo il pane, lo vede a loro e mandatene tutti, questo è il colpo mio. E se poi quella sera con i suoi amici scherzo il vino, lo vede a loro e bevetene tutti, questo è il sangue mio. Gesù è il tuo dita per nascolio e ti aspetta, non lo lasciare solo o no. Gesù è il tuo dita per nascolio e ti aspetta, non lo lasciare solo o no. Gesù è il tuo dita per nascolio e ti aspetta, non lo lasciare solo o no. Gesù è il tuo dita per nascolio e ti aspetta, non lo lasciare solo o no. Gesù è il tuo dita per nascolio e ti aspetta, non lo lasciare solo o no. E fu così, fu così